Tre palermitani già noti alle forze dell'ordine accusati di concorso in rapina sono stati arrestati dopo una rapina avvenuta proprio lo scorso mese di agosto occasione nella quale i carabinieri della stazione Aretto sono intervenuti nell'abitazione di un 33enne nel quartiere Montagrappa. I tre si sarebbero introdotti all'interno dell'appartamento dell'uomo che rientrando in casa dopo il lavoro avrebbe notato una finestra dell'abitazione leggermente aperta scorgendo all'interno della casa uno sconosciuto. La vittima pertanto avrebbe tentato di bloccare il rapinatore accorgendosi immediatamente della presenza di altri due complici che nel tentativo di fuggire l'avrebbero spintonato procurandogli una ferita al volto. Subito dopo la rapina i tre uomini si sarebbero allontanati con un bottino di 1000 euro. Dopo le indagini i carabinieri adesso sono stati arrestati.